Se stai seguendo questa playlist come principiante e dovessi trovare questo video un po' troppo dettagliato o difficile, puoi saltarlo senza compromettere il resto della playlist, ma il mio consiglio è di provarci e in ogni caso ritornare più avanti quando ti sentirai più pronto. Buona visione! La cosiddetta Move Sementic è stata introdotta per recuperare prestazioni e non in modo trascurabile in alcune situazioni dove si può evitare nel chiamare dei costruttori o nel farse restituire oggetti da una funzione, le operazioni che sono tipicamente coinvolte nel passaggio quando non usiamo un puntatore ma attiviamo il cosiddetto passaggio per copia. La classe Immagine Full HD che ho preparato vuole proprio evidenziare questo lavorio di copia che avviene in queste situazioni. La classe, ben lungi dall'essere architettata in modo sopraffino, ma lo scopo è altro, prevede un costruttore a cui passo il PEF, cioè la posizione e il nome di un file immagine da leggere. Il PEF viene memorizzato in questa variabile dello stato interno e qui allocchiamo un grosso blocco di byte capiente a sufficienza per leggere dal file i dati di tutti i pixel, ho immaginato l'RGB, cioè il valore rosso, verde e blu, più un canale di trasparenza per il numero totale dei pixel, di una delle risoluzioni che associamo al concetto di Full HD. Poi la lettura vera e propria non l'ho fatta, non ci interessa, non è questo il punto. Ne serve anche un costruttore vuoto perché nei passaggi, nelle invocazioni c'è bisogno a volte di creare degli oggetti temporanei dello stesso tipo e lo si fa passando appunto per questo costruttore, che si limita ad allocare in modo preventivo la RAM. Immaginate, non c'è, un qualche metodo load image, carica immagine da disco, che fa la stessa cosa che qua abbiamo fatto fare al costruttore completo. A seguire ho dotato la classe di un copy constructor e di un assignment operator, è un prerequisito, quindi se non avete idee chiarissime su questi due signori, andatevi a rivedere le corrispondenti lezioni di questa stessa playlist. Non avendo usato Smart Pointer ho previsto anche un distruttore che rilascia la RAM. E infine il semplicissimo stato interno privato. La seconda classe del progetto è questa usa immagine che è il cliente della prima, è quella che ho utilizzato per innescare i meccanismi che vanno a richiamare il copy constructor e o l'operatore di assegnamento. Infatti quando si richiama l'unico costruttore, come parametro si riceve, by value, è importante questo particolare, un'immagine full HD. E se ricordate è una delle situazioni in cui scatta l'utilizzo del copy constructor. Nel memorizzare l'oggetto immagine ricevuto come parametro nella corrispondente variabile dello stato interno di questa classe, scatterà invece l'operatore di assegnamento. E adesso ha un senso andare a guardare un minimo più in dettaglio il copy constructor e il copy assignment operator. Qui abbiamo un'operazione di allocazione, il prezzo che si paga per il loro richiamo e la copia fisica di quel grosso blocco di byte che corrisponde all'oggetto in ingresso che viene poi copiato qua. Con la funzione memcpy, memcopy, è una delle possibilità che ci evita di programmare noi direttamente il classico ciclofor che fa la copia. Diamo la destinazione che è l'area puntata dal bitmap di questa classe, la destination, qua abbiamo il source, la sorgente, da dove prendiamo il blocco da copiare che è puntato dalla bitmap dell'oggetto che riceviamo come parametro. La dimensione sappiamo che è questa, cioè il numero di byte da copiare. Nel copy constructor che viene invocato quando c'è in mezzo l'inizializzazione di un oggetto che ancora non esiste, è necessario allocare la RAM, cosa che invece non deve avvenire, non ha senso, nel copy assignment operator, perché invece lui viene invocato, come ricorderete, penso, in situazioni dove chi riceve l'oggetto da copiare esiste già. Ecco perché qua ci limitiamo alla copia. Nel main mi sono limitato a creare un oggetto uso immagine X fornendo, come parametro, questo oggetto immagine full HD creato al volo. Andiamo in esecuzione per evidenziare il richiamo dei blocchi che fanno appunto la copia. Viene invocato il costruttore non vuoto, corrisponde alla creazione di questo oggetto immagine full HD e nel passaggio by value al costruttore di uso immagine viene coinvolto, come avevamo anticipato, il copy constructor. Uguale, perdiamo un po' di tempo per fare la copia e in più dobbiamo allocare anche la RAM, che è un'altra risorsa che potrebbe anche venire a mancare. Poi, sempre come avevamo anticipato, nelle operazioni dell'assegnamento viene anche invocato il costruttore vuoto, ma anche quando viene invocato il copy assign operator scatta di nuovo una copia, altro tempo che si perde. Attenzione, particolare importante, per evidenziarti questi passaggi dobbiamo però disabilitare l'ottimizzazione che di solito i compilatori attivano di default, poi ne parliamo magari un filino più in dettaglio, che va sotto il nome di copy elision, che corrisponde al caso in cui il compilatore capisce che nel passaggio dei parametri, nella restituzione di valori, sostanzialmente può lavorare direttamente sull'originale e salta il processo di copia, cioè anche se abbiamo predisposto un copy constructor o il copy assignment potrebbero non essere richiamati. Ecco perché vi chiedo, prima di sperimentare questa classe, di andare nel project build options, compiler settings, other compiler options, a indicare questo, che inibisce quel processo di ottimizzazione. Attenzione, l'elisione del copy constructor non è che corrisponda a un forzare in automatico alla move sementi, che ha molte più casistiche e soprattutto è sotto il nostro controllo. Adesso, se ci pensate, questo oggetto è temporaneo e esaurita la sua funzione di trasporto dati al costruttore di uso immagine non ci serve più, dopo questo punto e virgola per noi smette di esistere. Allora, perché forzare una copia reale sullo stack, quando in qualche modo potremmo proprio muovere l'oggetto, spostare la responsabilità della gestione totale da questa riga del main alla funzione del metodo stesso? Questo è il concetto della move sementi. Dico, guarda, non sono più io che ho questo oggetto, passa a te, ma passa a te proprio in toto, non una copia, uno move. Qualcuno potrebbe subito obiettare, osservare, beh ma se a questo punto usassimo un passaggio by reference passeremmo appunto un indirizzo e il concetto è lo stesso, non vai a lavorare sulla copia perdendo tempo ma direttamente sull'originale. Non è la stessa cosa. Qui si tratta di beneficiare della sicurezza e anche delle prestazioni, a volte perché accedere a oggetti sullo stack è più veloce che non dereferenziarli sullo heap, senza pagare il prezzo della copia sullo stack. A volte questo è assai desiderabile, rendendoci per l'utilizzo di quel dato completamente indipendenti dall'esterno. Cioè se io dal main passo tramite un reference, un puntone on reference, comunque significa che quel metodo condivide con me accesso. L'ownership rimarrebbe al main, ma esporrei comunque il codice a rischi di abusi perché sto concedendo remotamente l'utilizzo del mio oggetto. Sì, poi posso in parte mitigare passando dei const reference d'accordo. Però il concetto di base è se trasferisco la proprietà in modo totale con la Moon Semantic, rendo indipendente al 100% senza nessun mio intervento diretto il metodo che riceverà dalla Moon Semantic questo oggetto. Come esempio palese di questi benefici pensate al meccanismo del Smart Pointer che internamente sono tutti basati su questa Moon Semantic. Dicevo, beneficiare di questo ma senza pagare il prezzo della copia, del Copy Constructor o il Copy Assignment Operator. Ecco perché in tutti quei casi in cui è coinvolto un passaggio by value di un R value come questo, casi in cui la Moon Semantic viene attivata in automatico, ma anche con un L value, nei casi in cui capisco di poterlo fare e allora potremo attivare la Moon Semantic in modo esplicito. Ecco perché in queste situazioni è possibile sfruttare la Moon Semantic dotando la classe di un Move Constructor che eviterà il richiamo del Copy Constructor e di un Move Assignment Operator che venendo richiamato al posto di quello standard di nuovo ci farà risparmiare l'onerosa operazione di copia e anche l'allocazione che comporta comunque, come abbiamo detto, sempre dei potenziali rischi. In questa prima parte sulla Moon Semantic e il Copy Elysium vi do semplicemente il codice così com'è del Move Constructor e il Move Assignment Operator, troverete il codice nello zip che allego al video come al solito. In modo che possiate giocarci un po', fare qualche domanda, fare qualche ipotesi, soprattutto apprezzare i tempi di esecuzione, sono ridotti quasi a un terzo rispetto a prima. Sparito il richiamo e la stampa del Copy Constructor, sostituito con il Move Constructor, uguale niente copia e anche per l'Assignment Operator, niente copia. E il risparmio è tangibilissimo. Meditate gente, meditate e ci risentiamo per le spiegazioni dettagliate al prossimo video.